Libero dopo cinque anni in cambio di un migliaio di palestinesi, Gilad Shalit parla per la prima volta alla televisione egiziana poco prima di tornare in Israele. Appare pallido, emozionato, fatica a trovare le parole ma complessivamente in buona salute. Sono stati anni molto lunghi ma ho sempre pensato che un giorno o l'altro sarei uscito, ha detto tradotto immediatamente anche in arabo. E alla giornalista che gli chiede la sua prima reazione alla notizia dell'imminente rilascio ha risposto così. L'ho saputo una settimana fa e ho pensato che era la mia ultima opportunità per essere libero, ma ho l'impressione che vivrò momenti molto duri. Il caporale, nel frattempo promosso sergente maggiore, si felicita della liberazione dei detenuti palestinesi, ma a condizione dice che tornino alle loro famiglie e abbandonino la lotta armata. E lancia un appello per la pace a entrambi i popoli. Spero che questo scambio porterà alla pace tra israeliani e palestinesi e che rinforzi la collaborazione tra le due parti.